Allora buonasera a tutti, benvenuti al convegno che abbiamo organizzato le tre associazioni di Mazzara del Vallo, Mazzara Libera, Lauser e il CPA. È un convegno che oggi parlerà della politica corruzione e mafia e sono qua a presentarvi gli ospiti a partire dalla dottoressa Camassa che è il magistrato presidente del Tribunale di Marsala, il dottor Walter Marino, il magistrato dottor Massimo Russo e poi abbiamo il signor Rino Giacalone che farà anche da codiatore del dibattito e il signor Giacomo Di Girolamo. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie dell'opportunità che mi avete offerto questa sera, questo pomeriggio. Credo che non c'è migliore occasione per affrontare oggi pomeriggio questi temi della mafia e della corruzione trovandosi all'indomani dell'importante approvazione che ha fatto il nostro Parlamento del nuovo codice antimafia che come tutte le leggi importanti di questo Paese, importanti quando toccano il vivere sociale e civile, comportano anni e anni di discussioni e di votazioni. E come tutte le leggi che hanno grande importanza sotto l'aspetto sociale e civile, non c'è neanche il tempo di approvarli che immediatamente le si pongono in discussione. Non stiamo parlando di cose che si dicono, c'è già un ordine del giorno che impegna l'attuale governo a verificare l'applicabilità e soprattutto l'applicabilità delle norme che riguardano la confisca dei beni, il sequestro, la confisca dei beni ai condannati per corruzione che si vogliono mettere in discussione. Al di là di tutto è certamente un passo in avanti e oggi pomeriggio abbiamo gli addetti ai lavori che servono a comprendere bene come queste nuove norme possono trovare applicazione. Magari se ci riusciamo potremmo anche dire se davvero c'è bisogno di un ordine del giorno che è stato approvato. Abbiamo la voce di un giudice, di uno dei magistrati chiamati a giudicare, abbiamo la voce di un magistrato che è stato pubblico ministero, in questa terra abbiamo la voce dell'avvocato e avremo la voce del giornalista che senza che si offenda nessuno credo che i giornalisti sono quelli che hanno il polso dell'attuazione, vivono di più a contatto con la gente. Poi ci sono delle relazioni che poi passiamo al dottor. forse è più vicino. Va bene adesso, ecco. Dobbiamo fare alcune scariche, ecco, perfetto. Dico poi ogni giornalista, ognuno di noi interpreta e presenta la realtà al lettore anche dal proprio punto di vista, però credo che il comune denominatore è sempre quello di ricevere i fatti reali per come avvengono. Io, tanto per introdurre, ho fatto una ricerca stamattina e ho trovato dei dati che per la prima volta leggo e vi leggo a voi. La sintesi che viene offerta da alcuni centri di studio sul fenomeno mafioso e produttivo ci dicono che ogni anno ognuno di noi è come se versasse mille euro nelle casse del malaffare e della illegalità. Il 12% dei cittadini italiani si è visto chiedere, questo è un dato che si riferisce all'anno 2014, l'ultima di racconto di rivoluzione è stata fatta. Il 12% dei cittadini italiani si è visto chiedere una tangente contro una media europea dell'8%. Nel corso del 2014 circa 4.000 euro di cittadini italiani in almeno una richiesta più o meno volata di... Forse se parlo così è meglio. Sono dati che dovrebbero farci indignare tutti perché toccano intanto le nostre tasche colpito o non colpito che siamo dal fenomeno della corruzione o delle tangenti così come sono dati che dovrebbero farci indignare quelli che riguardano i beni sequestrati e confiscati oggi ci dicono un po' tutti che la mafia è sommersa perché non spara più io penso invece alle imprese sequestrate e confiscate all'imprenditore mafioso o paramafioso al colletto bianco che sono costrette a chiudere e spesso non tanto c'è pure l'irresponsabilità dell'amministratore ma spesso perché si tratta di imprese se ci pensiamo un attimo di imprese che sono nate solo per far arricchire l'imprenditore non quindi creare occupazione non distribuire ricchezze e quindi nel momento in cui scatta il sequestro e la confisca è ovvio che quelle si dimostrano essere scatole vuote che si sciolgono quindi i morti i morti per mafia ci sono ci sono i disoccupati così come il fenomeno dell'omertà che personalmente seguendo alcuni processi si incontra anche in questi procedimenti cosiddetti di misure di prevenzione ricordo sempre il caso della maxi confisca che fu fatta all'imprenditore Grigoli della Despar il consocio di Matteo Messina Denaro all'indomani di quel sequestro ci fu la rivolta dei lavoratori che non si rendevano neanche conto che loro non erano liberi di vivere dentro quell'azienda perché per esempio avevano il divieto di scrivere questa organizzazione sindacale quindi questo è lo scenario di indignazione che dovrebbe che dovrebbe che dovrebbe toccarci io io mi taccio in questo momento perché vorrei cominciare con con la dottoressa Camassa proprio sugli aspetti su come questo fenomeno della mafia e della corruzione si è visto dal suo punto dal suo punto di vista voglio dire che prima di far presente il tribunale di Marsala la dottoressa Camassa ha presiduto un processo importantissimo a Trapani quando si diceva che la mafia non esisteva più nel 2003 la mafia trapanese ha costruito un intero quartiere allora parlare di questi argomenti è importante secondo me in questi consessi perché il problema molto spesso dell'Italia è un problema di spostamento di responsabilità cosa voglio dire noi pensiamo sempre è facile attaccare il crimine organizzato quando il crimine organizzato si occupa di droga si occupa di omicidi perché lì noi noi borghesi noi ben pensanti diciamo vabbè ma tanto a noi questo crimine non riguarderà il problema invece della classe borghese italiana è che è un altro il crimine che la riguarda e questo crimine la riguarda estremamente da vicino ma questo crimine la borghesia politica imprenditoriale professionale italiana non lo vede e non lo vuole vedere non lo vuole vedere perché ed è guardate che nell'esperienza processuale è spaventoso il modo in cui la negazione il negazionismo ed è spaventoso ed è un fenomeno che poi si dilata enormemente alla società cosa voglio dire vi faccio un esempio il problema quando noi si parla di mafia si dice da quando la mafia non spara più è molto più difficile combatterla ed effettivamente questo noi lo notiamo da quando la mafia ha fatto questa scelta perché io vi potrei leggere tanti verbali di collaboratori di giustizia la mafia a un certo punto come tutte le organizzazioni fa delle scelte anche politiche e ha scelto di non sparare perché sparando e aggredendo lo Stato aveva avuto ha avuto grandissimi danni la mafia è diventata molto più difficile da combattere ma la corruzione è stata sempre difficile da combattere proprio per questa caratteristica perché molto prima e molto di più del fenomeno mafioso la corruzione si basa sul silenzio sul segreto e sull'accordo di tutte le persone che vi partecipano accordo che molti giustamente definiscono accordo diffusivo perché è un accordo che tende come dire a coinvolgere sempre più persone e più persone sono coinvolte più difficile è scoprire questi fenomeni ma non è tutto la gravità del fatto è che molto spesso ecco Rino Giacalone faceva l'esempio di tutti questi cittadini a cui più o meno velatamente si chiedono le tangenti ma già questo cioè il chiedere la tangente è un fenomeno di emersione del fenomeno della corruzione il problema che il cittadino dovrebbe guardare con un cittadino specie quello quello che vive diciamo nelle strutture pubbliche quello il professionista di cui si dovrebbe rendere ben conto ed è un problema diverso è per esempio quanto la corruzione incida sul mercato del lavoro dei nostri figli quanto la corruzione incida sulla mancanza di concorrenza abbiamo interi settori e guardate che la corruzione ho letto degli articoli la corruzione in Italia è una corruzione può essere di tanti tipi la corruzione a livello locale la corruzione a livello centrale io direi che la corruzione peggiore è quella a livello legislativo pericolosissima la corruzione delle grandi scelte di politica legislativa condizionate da imprese politici politici collegati con le imprese il problema del conflitto di interesse che noi dobbiamo cominciare a renderci conto che il conflitto di interesse significa che una società ha un politico di riferimento all'interno della politica e guardate che la corruzione politica cioè il condizionamento nella formazione delle leggi e nella scelta se finanziare di più il settore delle gomme finanziare di più il settore delle auto finanziare di meno e queste sono scelte di politica sono attività rispetto alle quali il controllo della giurisdizione della magistratura è sostanzialmente impossibile come si fa a stabilire in un testo di legge se un determinato emendamento è stato condizionato da una certa lobby di potere o meno come si fa come si fa a livello giurisdizionale sono attività pericolosissime quindi qual è la soluzione la soluzione è molto a monte cioè evitare il conflitto di interessi evitare questa presenza di imprenditori interessati all'interno della politica nazionale della politica regionale quali sistemi di concorrenza può garantire e non avere la concorrenza il problema è quando ti chiedono la tangente tu lo vedi subito il cittadino mettiamo che accada così facilmente che va in un ufficio pubblico e qualcuno gli chiede la tangente non funziona esattamente così non c'è questa immersione così semplice è molto più complesso devi entrarci nel sistema non c'è è molto difficile che arrivi in un ufficio pubblico e ti chiedano direttamente la tangente però il cittadino si dovrebbe molto preoccupare di quando emerge un fenomeno corruttivo che ha determinato una modifica della concorrenza noi non sappiamo quanti milioni di euro in più ci costano come cittadini servizi pubblici non solo ci costano molto di più ma che servizi pubblici abbiamo quale qualità di servizio pubblico abbiamo se non abbiamo una concorrenza leale quindi il problema della corruzione è proprio il problema dell'occulto il problema della difficoltà dell'emersione oggi naturalmente riguardando qualche articolo qualche commento ho letto un dottissimo articolo del professore Viganò professore dottissimo che tutti conoscono che scrive sulla rivista importantissima diritto penale contemporaneo che spiegava tutti i nuovi strumenti strumenti dettati dalla legge del 2015 sempre in materia di corruzione la possibilità della riduzione di pena per i collaboratori l'aumento delle pene che è la panacea italiana di tutti i problemi aumentiamo sempre le pene aumentiamo sempre le pene e scarichiamo sulla giustizia penale l'inettitudine e la incapacità dei settori amministrativi ecco leggo tutto questo articolo dopo tutto questo dottissimo articolo anzi ve lo leggo testualmente è un articolo di procedura penale un articolo di diritto non è un articolo dalla facile lettura da parte di chiunque però poi a un certo punto dice finisce così peraltro il terreno della prevenzione quindi la prevenzione sulla corruzione è stato già ampiamente erato alla famosa legge Severino e da una miriade di altri provvedimenti conseguenti per cui ha bisogno allo Stato di una diligente cultura più che di un ulteriore concime probabilmente anche di un riassetto normativo per mettere ordine in un groviglio di disposizioni cresciuto in modo impetuoso e a tratti caotico abbiamo una serie di norme di prevenzione formale che spaventose e del tutto poi inutili di corruptissime repubbliche plurime legge questo è un piccolo di certo più che la moltiplicazione degli adempimenti formali e burocratici e l'efficienza dei sistemi e prima ancora irradicarsi e l'efficienza dei sistemi quindi efficienza e prima ancora irradicarsi ma per esserci l'efficienza ci deve essere la concorrenza l'impresa che ti svolge i lavori deve essere la migliore impresa non l'impresa del cugino del nipote di tuo fratello o l'impresa di riferimento e prima ancora irradicarsi di una solida e condivisa e mi dispiace cultura della legalità nella società e nelle istituzioni che può vincere corruttele ritardi omissioni e sprechi nella pubblica amministrazione e tuttavia si grida ancora lo scandalo con questo testo unico in materia di antimafia che ha esteso l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali guardate bene non ai soggetti indiziati di corruzione concussione ma ai soggetti che sono indiziati di partecipare ad un'associazione dedita ai reati contro la pubblica amministrazione sembra una differenza da poco ma è una differenza enorme perché non vai a colpire cosa che avrebbe avuto effettivamente dei profili che non mi piace che non sto a spiegarvi difficili sotto il profilo della coerenza di sistema e anche della legittimità costituzione non vai a colpire il singolo fatto di corruzione che è giusto che sia colpito a seguito di una condanna penale con un accertamento penale vai a colpire un sistema associato quindi molto più grave di corruzione qual è allora lo strepito lo strepito è perché è una norma comunque enormemente efficace potenzialmente perché per una ragione giuridica semplicissima che già la Cassazione a sezioni unite mi pare alla fine del 2015 ha evidenziato e ha confermato le misure di prevenzione che sono questi provvedimenti appunto che possono portare sia a riduzioni della libertà personale che a apprensioni del patrimonio illecito dei soggetti hanno una caratteristica che nel penale non c'è voi sapete che per applicare una sanzione penale a un soggetto non puoi mai condannarlo se quel fatto non era previsto come reato quando lo ha commesso o non gli puoi applicare una sanzione penale se quella sanzione penale è più grave per esempio all'epoca in cui commise il reato non era prevista perché era prevista una sanzione penale meno grave con le misure di prevenzione non è così quindi questa norma che prevede l'applicazione proprio perché si basano su un concetto diverso non sulla pena ma sulla pericolosità sociale quindi un strumento molto potente questo sistema di apprensione di patrimoni potrà applicarsi anche per patrimoni illeciti formati attraverso la partecipazione a queste associazioni dedicate alla corruzione anche in precedenza cioè è una normativa con legittimo effetto retroattivo ora immaginate che in Italia e in Sicilia in particolare ci sono stati specialmente negli anni 90 grandissimi processi dove sono stati accertati veri e propri sistemi di corruzione con questo strumento oggi a fronte di un accertamento penale di illiceità e di pericolosità di quei patrimoni già negli anni precedenti questi strumenti potranno essere utilizzati quindi il timore il timore della nostra politica è anche quello perché tra politica e imprenditoria nel nostro paese non c'è un rap perché vedete non dobbiamo avere falsi moralismi quando io da presidente del tribunale vado proprio nel concreto per esempio noi purtroppo presidente del tribunale ci occupiamo anche di fare gare cioè di tutto ormai siamo bravissimi bravissimi no ma facciamo tutto e allora per esempio per stabilire se un determinato servizio come deve essere fatto io molto spesso mi controllo dei plian telefono a delle ditte dico mandatemi per capire quale sarà la scelta migliore però la mia scelta è una scelta assolutamente estranea quindi non è che io non sono non come dire estranea alla concretezza della vita la concretezza della vita mi porta a vedere che un imprenditore fa un'attività produce un prodotto migliore che un imprenditore vende con delle caratteristiche migliori però la mia scelta è autonoma il problema della nostra pubblica amministrazione è che invece queste scelte non sono affatto autonome e che gli imprenditori specialmente alla regione siciliana sono di casa sono di casa forse Massimo Russo qualcosa ce la può raccontare più dal vivo di me io sono forse una teorica insomma perché ho avuto un marito che ha fatto per tre anni pubblica amministrazione a Palermo quindi tanto teorica non sono so di cosa parlo e poi ho fatto tanti processi poi c'è un altro fenomeno ed è il fenomeno appunto della diffusività io ho avuto un caso particolare di corruzione finito con una sentenza di condanna definitiva quindi ovviamente mi permetto di parlarne senza fare nomi ed era il dirigente della sezione di PG della polizia giudiziaria dei carabinieri del mio tribunale la particolarità di questo tipo di corruzione è che non si rivolgeva a terzi estranei ma si rivolgeva cioè tentava di far entrare nel sistema corruttivo un suo sottoposto un suo brigadiere un suo appuntato questa è un'altra caratteristica la caratteristica e questo si è visto per esempio nelle indagini a Milano quando ogni tanto c'erano dei capitani o dei della finanza che dicevano guardi dottore dice io ma lei come mai così giovane già inserito cioè sono entrato in un ufficio dove praticamente se non avessi fatto questo non so sarei stato trasferito non avrei fatto carriera nessuna giustificazione ovviamente di tutto questo ma dico che il fenomeno è la particolarità è che è diffusivo che è segreto e che ci interessa tutti perché paradossalmente noi della così della buona perché se ce li abbiamo accanto questi non è più il criminale lo stupratore siamo tutti severissimi con lo stupratore siamo severissimi col trafficante di droga siamo severissimi con il commette l'omicidio improvvisamente specialmente quando abbiamo figli perché l'Italia è il paese dei figli quando abbiamo figli che ne so ma anche la nostra etica si riduce perché poi c'è il problema del posto di lavoro e allora il posto di lavoro è un problema rianzi al quale guardate è un'altra cosa anomala dell'italiano che non capisce che corruzione non è solo quando io ti do la tangente ma è anche quando ti sistemo tuo figlio e tu mi fai qualche altra cosa cioè quindi la corruzione è qualcosa di molto più complesso di quello che noi certe volte immaginiamo semplicisticamente io ti do il denaro e tu mi fai l'atto pubblico comunque siccome ho parlato già troppo mi taccio e poi continuo mi viene da dire che la corruzione anche quando mi faccio giusturare casa è la casa della suocera mi viene non provo con nessuna risposta così riflettevo ad alta voce riflettevo ad alta voce sugli emendamenti che si approvano a colpo di Rolex avvocato marino dopo un giudice deve parlare un avvocato e dal mondo dell'avvocatura abbiamo avuto sempre tensioni e posizioni altisonanti anche rispetto alle misure di prevenzione spesso si sono contestate quindi e debbo dire non solo quando si trattava di politici ma anche in genere ma soprattutto quando sono stati toccati i politici ricordo che anche nella nostra provincia uscì fuori la storia che siccome un politico era stato assolto non poteva subire una misura di prevenzione quindi posizione anche sostenuta dal mondo dell'avvocatore il problema della corruzione l'ha descritto in maniera eccellente il presidente Camassa noi non abbiamo mai avuto problemi di contrapposizione alla magistratura noi ovviamente cerchiamo di nel rispetto delle regole previste dal codice e dalle normative speciali di rappresentare il nostro assistito ovviamente quando si parla di misure di prevenzione quando si fa il ricorso a determinate leggi c'è sempre un costo e il costo è la garanzia del diritto di difesa perché come ha detto il presidente mentre per accertare la responsabilità di una persona è necessario che emerga la prova al di là di ogni ragionevole dubbio perché nel dubbio i giudici assolvono quindi un giudice prima di condannare deve essere assolutamente certo quando noi ci affidiamo a delle normative speciali ai ricorsi che in molte occasioni sono stati corretti e ci hanno portato a determinati risultati questo deve avere un costo per cui dobbiamo andare a verificare ogni volta se il ricorso a questa legislazione speciale ne vale la pena ne è valsa la pena oppure questo fenomeno può essere lottato con altri sistemi quando ci siamo prima ancora si sono trovati a lottare il fenomeno mafioso dopo Falcone e Borsellino inizialmente c'era questa mafia violenta ha avuto immediatamente una risposta che prima ancora dagli uomini dello Stato dalla popolazione che appena ha visto l'aggressione alle istituzioni ai migliori uomini delle istituzioni diciamo qui cominciamo un pochettino a prendere distanze da questo tipo di mafia si è preso si sono formate tutta una serie di associazioni antimafia si sono formati i comitati la gente ha cominciato a prendere il coraggio di parlare nei convegni in televisione pure contro la mafia a questo punto chi fa le leggi dico e mi riallaccio al discorso del presidente si è trovato costretto ad affrontare il problema perché non era un problema che si poteva risolvere soltanto con il 416 bis che più volte sentiamo nominare si è dovuto fare ricorso a una normativa speciale perché non bastava aggredirli aggredire il mafioso che andava a fare l'estorsione ma era necessario colpire il patrimonio oppure applicargli una misura personale in una maniera dove non c'era la prova ma bastava un semplice indizio e a questo punto è stata prevista questa normativa per la mafia forse è stata necessaria i risultati cui sono pervenuti cui siamo pervenuti verosimilmente sono buoni oggi probabilmente forse anche grazie a questa normativa ma normativa che prevede comunque un sacrificio al diritto alla difesa quando viene assolta una persona dal reato di associazione mafiosa e dopo questo soggetto deve verosimilmente sarà sottoposto a misura di prevenzione o sarà sottoposto a un provvedimento cautelare sempre ci sarà una valutazione sempre del tribunale per carità viene assolto e viene assolto sintomi di pericolosità ne ho visti pochissimi che non c'è stata la proposta quasi sempre c'è stata la proposta dopo il tribunale spetta al tribunale vagliare il tribunale vaglia effettivamente se c'è una pericolosità o non c'è una pericolosità ovviamente per chi è condannato la pericolosità è già prevista in maniera automatica e c'è una presunzione di pericolosità che non cessa mai se non con la morte oppure con il passaggio all'altro lato nel senso a diventare collaboratore di giustizia quindi qua ci sono dei sacrifici sacrifici che forse probabilmente sono stati giusti io non posso dire se è stato corretto applicare queste misure di prevenzione queste misure di prevenzione hanno raggiunto il risultato la lotta la mafia ha raggiunto il risultato sono stati acquisiti dei patrimoni illeciti adesso ci sono dei provvedimenti che sono definitivi e quindi verosimilmente il risultato è stato raggiunto ha avuto sicuramente un costo oggi perché non appena viene promulgata viene approvata definitivamente questa legge già ci sono persone che si lamentano deputati che si lamentano ma non dovrebbero lamentarsi perché dovrebbero approvare le leggi dopo sta il giudice andare a verificare se ci sono patrimoni leciti o patrimoni illeciti basta che uno è a posto d'altronde faccio una considerazione ma se io la casa l'ho comprata con i soldi che ho guadagnato facendo l'avvocato e ho tutto tracciato qual è il mio problema il problema non sono i nostri soldi il problema è costituito dalle somme che queste persone avrebbero percepito anche in passato per cui qui la corruzione che prima è nata si parlava come fenomeno io come avvocato il presidente dice ci sono state molte sentenze di condanna per reati di corruzione però da quando è che faccio l'avvocato e nei tribunali piccoli nei tribunali piccoli non ci sono processi non ci sono processi per corruzione quindi se io dovessi valutare l'esistenza della corruzione oggi dovrei dire che corruzione non ce n'è per quale motivo gli altri reati vengono accertati i magistrati lavorano dalla mattina alla sera ovviamente accerterebbero anche questi reati il problema ci sono dei dei problemi che sono stati creati inizialmente sempre di politica legislativa inizialmente è stata prevista per la corruzione una pena talmente bassa che era facile arrivare immediatamente alla prescrizione quindi verosimilmente prima che si partiva il pubblico ministero partiva e dice ma tra un anno e mezzo si prescrive e quindi dopo quando hanno aumentato le pene c'è un problema che ha detto il presidente Camas mentre tra quando ci troviamo di fronte hanno un reato per esempio quello di associazione ma se abbiamo un soggetto che approfittano di un altro che fa valere il vincolo associativo che fa valere l'intimidazione nei confronti di un altro quindi abbiamo un soggetto passivo che subisce il soggetto attivo nel reato corruzione sono tutti e due d'accordo sono tutti e due completamente d'accordo quindi accertare la corruzione è difficilissimo quindi allora a questo punto siccome la corruzione se noi andiamo a guardare se noi andiamo a guardare che cosa è successo in passato non si è mai voluta combattere la corruzione perché quando il presidente il presidente del cantore il magistrato si è insediato all'autorità di vigilanza che doveva essere l'autorità che doveva vigilare sui pubblici appalti ha trovato 335 dipendenti di questi 335 non ne parlo perché lo dice lui nelle relazioni che fa di questi 335 c'erano 52 dirigenti e c'erano degli uffici dove c'era un dirigente e un dipendente e il consiglio di presidenza e il consiglio di presidenza aveva ogni componente ogni componente si chiamava un altro assunto part time e quindi se questa era l'autorità che doveva vigilare per carità non c'è nessuna mazzetta non c'è niente dopo magari sicuramente l'avrà messa a posto figuriamoci cosa doveva succedere dopo adesso probabilmente gli schiererà il mandato cambieranno di nuovo le cose io ritengo che è concludo su questo discorso la corruzione adesso ci siamo accorti che un problema corruttivo non è più un fenomeno è un sistema per cui noi dobbiamo stabilire come lottare questo sistema possiamo stabilire se lottarlo normalmente secondo le regole del codice tentare qualche sequestro conservativo cercare di bloccare questi patrimoni illeciti ma in realtà dopo non si blocca niente perché ci sono delle società che sono delle semplici cartiere oppure ricorrere decidere di lottare questo fenomeno questo sistema non è più un fenomeno è un sistema con una normativa speciale partendo da quello che è stato approvato il cosiddetto codice antimafia il codice antimafia che prevede l'applicazione anche a taluni reali alle corruzioni 316 terre e altri reali questo però come ho detto prima ha un costo però se è necessario per raggiungere un obiettivo i nostri i nostri politici che noi mandiamo per legiferare lo sapranno meglio di noi se continuare su questa strada e quindi far accertare i corruttori oppure se mettere all'ordine del giorno mettere all'ordine del giorno e fare fare un passo indietro al Parlamento e quindi diciamo che sono perfettamente d'accordo con il presidente Gamassa però di fatto se non si cambia completamente il sistema non si arriverà mai alla lotta e alla corruzione l'ultimo concetto la lotta alla mafia si è sconfitta perché si sono creati tutta una serie di sistemi che vanno dai magistrati che si occupavano soltanto dei reati di mafia agli investigatori che si occupavano soltanto di determinati reati commessi da mafiosi ma in un piccolo centro vedo qui ci sono rappresentanti dei carabinieri della guardia di finanza come Mazzara dove sulla scrivania dei comandanti della guardia di finanza e dei carabinieri ci sono denunce per furti di biciclette denunci per furti di luce non si sa quanti furto d'acqua dopo ci sono omicidi dopo ci sono una varietà un'eterogenità di reati incredibili quale specializzazione quale tempo possono dedicare all'accertamento di un reato così difficile e allora è più facile accertare qualche volta questo reato in grossi centri dove ci sono dei magistrati e dove ci sono dei pool di investigatori che si occupano soltanto di reati contro la pubblica amministrazione ma nei centri siamo forse tipo all'ivigno dei porti franchi perché materialmente non ci sono nemmeno gli uomini il tempo la struttura e le competenze grazie ha certamente detto una grande verità l'avvocato Marino da questo da questo punto da questo punto di vista e potrei citarvi un'esperienza personale che è solo antica di qualche di qualche settimana ho seguito per il giornale per il quale scrivo la vicenda delle ONG dell'immigrazione quando ancora non era esploso nel suo insieme e trovandomi a parlare avvocato con i poliziotti della squadra mobile di Trapani che si occupavano di questa vicenda che aveva sollevato grandi scandali prese posizione a livello nazionale governo di Roma e via discorrendo il dirigente della mobile di Trapani mi confidò che sì questa indagine era importantissima e a condurla erano quattro persone dopo che uscirono sul giornale arrivarono arrivò qualche aiuto in più e non stiamo a parlare delle indagini di mafia quanti sono questo ce lo potrebbero dire sia la Camassa la dottessa Camassa sia il dottore Russo nella storia quanti sono stati gli investigatori messi sul campo a cercare i latitanti e il grande latitanti io volevo provocare invece adesso l'intervento di Giacomo Di Girolamo poi lui ha al suo solito carta bianca e magari svirgola la provocazione ma io ma io io ci provo l'avvocato Marino diceva le misure di prevenzione hanno colpito hanno colpito un fenomeno da forse giudiziariamente perché poi dico da un punto di vista ritorno sul tema della reazione della società civile noi abbiamo più di una storia che ci racconta di oggi parliamo di politica di politici soggetti alla misura di prevenzione rispetto alla quale la reazione della società civile a cominciare dal presidente della regione è stata quella di farsene un baffo perché quei politici soggetti alla misura di prevenzione continuavano a fare politica oppure potremmo dire anche dei mafiosi tornati liberi non c'è problema anzi direi che è un gallone un gallone quante ne hai? tre galloni allora quante condanne hai? tre allora conti di più quattro perfetto ottimo o potremmo parlare o potremmo parlare lo facciamo assieme il moderatore lo avete capito già no? e ancora non si è messo di mezzo lui ma lui mi permetto di scherzare perché apro una parentesi mi piacere di essere qui stasera di essere qui con la dottessa Camassi Massimo Russo col quale ci conosciamo da tantissimi anni e poi mi permetto di stare a fianco di due persone che hanno lavorato e conosciuto benissimo forse meglio di qualsiasi altro avrebbero più titoli di parlare rispetto di altre del dottore Paolo Borsellino questo lo diciamo e chiudiamo abbiamo avuto mafiosi che hanno subito le condanne che hanno subito le misure di prevenzione dopo che si siedono alla piazza principale come viene a dire di erice e si ricevono la fila di questo anti che vanno non vi sto raccontando un'immagine giornalisticamente forzata un'immagine vera quel giorno purtroppo non avevo né il telefonino né la macchina fotografica ma avevo la grande voglia di fare una foto quindi provocare Giacomo Di Giorno dal punto di vista della reazione della società civile rispetto all'emergenza tutto quello che esce dai palazzi di giustizia quest'estate abbiamo parlato tantissimo di sistema Trapani si sono fatti interi reportage nazionali sul sistema Trapani quindi questa è la mia provocazione per Giacomo grazie buonasera grazie all'invito ma secondo me il problema che pone Rino è presto risolto perché insomma io che per statuto mio personale coltivo l'impopolarità parto dalla considerazione del mio lavoro che non esiste l'opinione pubblica nel senso che non esiste quella massa critica di persone altrimenti detta società civile spesso no in anteposizione alla società politica come se la società politica fosse tutta incivile ma insomma questo è un altro discorso cioè non esiste quella massa critica di persone in grado di reagire rispetto al racconto di una determinata cosa e ogni giorno io racconto cose ma in realtà è una cosa che capita a tutti noi no noi vediamo il report la domenica sera giusto per fare il nome di un programma che seguiamo in parecchi ci sono scandali terribili che vengono raccontati cosa pensiamo noi domani dopo questa inchiesta chissà cosa succederà invece cosa succede l'indomani la replica di il report insomma ancora fanno il sabato pomeriggio che per me tra l'altro è un orario comodissimo perché la bimba dorme quindi lo posso vedere con più calma l'opinione pubblica non esiste men che meno in questa nostra terra se uno si prodiga nel racconto delle cose è perché nel mio caso sa fare solo quello cioè il mio mestiere lo so fare e cerco di farlo bene e nella nella fattispecie poi sul sul tema mafia politica corruzione che mi fa sorridere perché è tradizionale tema vasto delle conferenze antimafia dove ognuno di noi giustamente può infilare tutto e il contrario di tutto anche se poi l'attualità è data dal codice antimafia e c'è secondo me una linea che unisce gli interventi che mi hanno preceduto ovvero quello che in Italia sia il problema della corruzione sia il problema della lotta alla mafia si è deciso di appoggiarli totalmente al sistema giudiziario cioè i giudici la politica fa per ragioni che magari poi cerchiamo di capire insieme fa da scarica a barile sui magistrati e lo sta facendo in questo caso con il tema della lotta alla corruzione che è la grande emergenza nazionale del paese ma è quello che ha fatto dal 92 in poi col tema della lotta alla mafia lo dico perché in realtà siccome noi abbiamo già un modello dobbiamo stare molto attenti perché questo metodo della lotta la mafia ha funzionato ma ha creato anche molte molte storture nel senso che appoggiando ai giudici quasi per intero il compito di bonificare il nostro paese spesso noi abbiamo considerato l'indice puntato del PM contro l'imputato in un processo quasi come fosse l'indice di Dio e abbiamo sfiorato più volte o sfiorato il populismo giudiziario come credo abbia scritto un paio di volte Fiandaga e ancora abbiamo costruito un giornalismo faccio la mia colpa a nome della categoria spesso schiacciato sulle ragioni dei PM che invece sulle ragioni o sui fatti che emergono dal processo questa cosa la dico perché si collega ad alcuni appunti che prendevo stamattina prima di venire qua e che secondo me fanno pandanno con quelli che ho citato poco fa a Rino perché sono due facce della stessa della stessa medaglia Rino parlava dei costi della corruzione nel nostro paese insomma credo che fosse questa la sintesi di quei dati io invece vi parlo essenzialmente di mafia e secondo i dati della direzione nazionale antimafia dal 1990 ad oggi sono stati arrestati più di 4.000 mafiosi di questi 200 sono al carcere dure 41 bis e nel 1992 si contavano in tutta la Sicilia 152 omicidi di mafia nel 2007 erano 9 omicidi nel 2016 0 questi dati sono importanti perché ci danno con evidenza e chiarezza il senso che grazie anche al sacrificio di uomini come Paolo Borsellino e tanti altri oggi noi possiamo dire che lo Stato sta vincendo la sua lotta contro la mafia perché mai come in questo momento Cosa Nostra è stata così debole ce lo dicono ce lo dicono assolutamente i numeri e tra l'altro secondo sempre la direzione nazionale antimafia nel nostro paese c'è un mafioso ogni 900 abitanti pensateci i testimoni di Geova sono molti di più soprattutto quelli che la domenica mattina suonano accanto a casa mia ma unicamente perché hanno il tempio vicino a casa mia quindi è una evangelizzazione a chilometro zero che fanno però i mafiosi sono molti di più e quando uno prende questo dato e poi prende il dato di quelle che possiamo chiamare le milizie dell'antimafia che poi è una categoria insomma molto originale però mettiamoci dentro investigatori magistrati sul campo giornalisti professori docenti iscritti al Libra associazione antiracket credo che nel nostro caso anche in Sicilia arriviamo a quello sono 5.000 persone di media cioè stiamo parlando di due eserciti abbastanza sparuti abbastanza piccoli che si scontrano in un campo grande dove in mezzo ci sono 4.900.000 siciliani che con le loro scelte con le loro missioni con le loro prese di coraggio con il loro girarsi dall'altra parte decidono chi vince e chi perde in quel momento quindi quando io vi dico che stiamo vincendo la lotta contro la mafia non lo dico per minimizzare un problema lo dico perché è davvero l'ora in cui dobbiamo responsabilizzarci tutti nessun codice antimafia ci salverà non arriva il codice antimafia che prevede alla bacchetta magica e bidibubodibi la mafia scompare perché tutto parte dalla nostra responsabilità e lo dico anche contro i miei interessi insomma io ho scritto la biografia di Matteo Messina Denaro dovrei saltarne il ruolo dato che faccio parte del suo indotto invece sono il primo a dire guardate che messi da denaro è l'ultimo della sua razza, nel senso che dopo di lui davvero sarà finita questa esperienza criminale di Cosa Nostra cominciata 150 anni fa e che attenzione, io mi sento sempre di precisarlo, vive questo periodo di immersione non come una eccezionalità ma come la normalità, è stata un'eccezionalità e la storia della mafia è il periodo corlionese che è durato 30-40 anni, forse qualcosa anche meno, per il resto la mafia di oggi è quella che era fino a 800 o quella che era inizio a 900, cioè nel suo evitare completamente il rumore e gli scandali, lo evita anche perché non ci sono più le milizie, non ci sono più picciotti, non c'è più neanche un boss in giro a pagarlo oro, nel senso che escono e li riprendono perché sono persone che fanno solo quello, cioè escono e fanno le estorsioni, cercano di ammazzarsi fra loro, cercano di improvvisare attentati anche con una certa nostalgia dei feroci tempi che furono, ma non ci riescono, questo è importante perché se noi siamo davvero all'ultimo miglio nella nostra lunga storia di lotta alla mafia e però non ci sentiamo di cantare vittoria, nessuno di noi fa i caroselli con le auto, vuol dire che c'è un problema e i problemi sono secondo me due, il primo riguarda proprio la mafia uno dei concetti fondamentali della mafia da sempre è che la forza della mafia sta fuori dalla mafia cioè l'organizzazione criminale di stampo mafioso non vale e non conta per gli uomini che mette in campo ma vi è più, direbbero i giuristi, vale per le relazioni e per le persone che riesce a mettere insieme cioè un mafioso è tale, non per quello che è lui, ma perché riesce a mettere insieme il burocrate con il politico il politico con l'imprenditore, l'imprenditore con il funzionario, no? è una specie, è un grande mediatore ora non c'è più il mafioso e da quello che dico io da osservatore, Rino diceva noi giornalisti siamo osservatori sul campo ed è vero, è che in realtà questa mediazione si è in qualche modo sublimata cioè noi oggi è come se ci fosse un quadro, ecco avete presente il quadro della mafia il problema oggi secondo me è la cornice del quadro, la cornice di questo sistema che è quella contro la quale noi siamo assolutamente impreparati perché? Perché è un problema della classe dirigente tutta di questo paese e non si può aspettare dai nostri politici una reazione contro la mafia della classe dirigente chiamiamola così perché essi stessi in qualche modo ne sono finanziati lo citavamo poco fa, lo diceva la dottoressa Camassa se c'è la lobby del gioco d'azzardo che mi finanzia la fondazione del Presidente del Consiglio X è difficile che quello fa un provvedimento contro il gioco d'azzardo che è una delle grandi piaghe delle nostre città e quindi parliamoci, parliamo addosso responsabilità scarichiamo sempre sulla magistratura, aumentiamo le pene e convinti che in questo modo scompaia anche il reato e il contesto oggi è il vero problema e il contesto oggi è il vero problema e non è più neanche per me tanto l'illegalità il problema quanto una cosa più fina e più anche difficile da cogliere cioè non è il problema per me oggi l'illegalità in sé anche perché è come il fatto della tangente citavamo poco fa quando c'è la tangente si vede il problema invece oggi nel nostro paese e in questo territorio ancora di più riguarda il modo illegale in cui si muovono molti poteri legali c'è quella zona d'ombra tra legalità e legalità sì che a volte sono anche le lobby che è uno spazio di gioco infinito dove tutto si confonda sì poi ognuno è il cerco magico poi c'era la terra di mezzo insomma ognuno a seconda delle sì sì assolutamente e la seconda cosa che vi devo dire se dobbiamo cogliere tutta questa complessità è chiaro che dobbiamo anche cambiare il nostro modo di fare antimafia ho scritto un libro che si chiama addirittura contro l'antimafia insomma il più eretico tra gli eretici titoli che si potevano scegliere però è chiaro che alcuni slogan o alcuni nostri modi di fare antimafia non vanno più bene se non sono accompagnati dallo studio e dai contenuti anche nell'informazione ripeto parlo soprattutto di me della categoria Rino citava poco fa il sistema Trapani io mi ricordo alla vigilia del voto a Trapani è uscito un articolo su tiscali.it un giornalista che scriveva 200 mafiosi nel titolo sono usciti dalle galere a Trapani prima del voto la mafia condizione del voto di Trapani non era vero perché 200 mafiosi nelle patrie galere non ci sono non lo so ci sono in tutta la Sicilia ma a Trapani addirittura eppure questa cosa ha avuto migliaia decine di migliaia di condivisioni no? perché è tutto molto ienizzato striscia la notizia non so se mi sono spiegato è il meme il tweet che gira fate girare a Trapani ma non a Trapani il giorno prima le elezioni per andare a votare è chiaro ma io l'ho capito il riferimento qual era ma parlava di provincia ma parlava di provincia di Trapani 200 mafiosi in provincia di Trapani ma il titolo l'ho letto il titolo era 200 mafiosi ma il titolo fa il titolo ma intanto il titolo è il titolo no dico questa cosa questa cosa la cito ma potrei citare tantissimi altri esempi perché in realtà è il tipo di giornalismo da quale dobbiamo fuggire o il tipo di racconto da quale dobbiamo fuggire cioè quello che vive di slogan e invece non si confronta con il vero tema del nostro tempo che ci riguarda tutti i giornalisti avvocati magistrati pubblici funzionari che è questo se davvero vogliamo fare lotta alla mafia la complessità saper cogliere la complessità e saper raccontare le contraddizioni e i nodi del potere è un'attività che ognuno cerca di fare come può io per esempio a Mazzara noi su TP24 più volte abbiamo raccontato la stranezza della moglie di Vinci che è uno degli arrestati di operazione Visir che ha avuto una serie di appalti diretti dal comune di Mazzara del Ballo e l'abbiamo raccontato credo in tre quattro puntate su questa cosa non abbiamo avuto mai risposta e credo c'è stata anche un'interrogazione come l'ho detto in Consiglio ma non c'è stata mai risposta lo dico perché sono a Mazzara e quindi colgo l'occasione però denunciare con serenità senza gridare a fuoco a fuoco queste contraddizioni è un compito di chi fa il giornalista e raccontare come abbiamo fatto oggi la cartolina singolare a Campobello di Mazzara per cui c'è convegno in cui si parla di legalità e ci sono il tizio di Libera la Ciprete il sindaco e a moderare Doriana Licata nipote di Carmelo Patti Valtur 5 miliardi di richieste di sequestro di beni e sorella di Aldo Licata uno dei pochi davvero condannati per corruzione elettorale riferito proprio all'elezione della sorella questa cosa raccontare questa cosa non significa strapparsi le vesti urlare significa notare un piccolo cortocircuito avete presente quando c'è a un certo punto il diagramma cercare di isolare quel momento e di cristallizzarlo perché magari serve alla comunità e a tutti io ho finito su quello che dovevo dire volevo riagganciarmi alla cosa che si diceva poco fa sui figli si parlava dei nostri figli ed è vera questa cosa perché in realtà noi siciliani alleviamo e cresciamo i nostri figli dicendo no deve essere intelligente ma in cuor nostro speriamo che sia esperto il nostro figlio furbo prima di tutto perché la furbizia la vera dota che noi siciliani vorremmo avere e non perdoniamo mai agli altri lo dico perché noi quest'ultimo miglio non lo facciamo e non lo facciamo perché siamo un po' intrappolati come la maledizione delle statuole di sale insomma che si legge nella Bibbia ma per usare un esempio più terra terra avete presente l'omino dell'uscita di sicurezza no qua non c'è insomma ma è quello bianco con quell'insegna verde che indica l'uscita di sicurezza noi siamo ridotti ormai come quell'omino cioè noi sappiamo la direzione perché la sappiamo abbiamo tutti gli strumenti abbiamo i libri abbiamo la storia abbiamo gli esempi abbiamo i martiri abbiamo davvero tutto e sappiamo la direzione come quell'omino la indichiamo però come quell'omino siamo condannati a stare quasi fossimo creature di sale fissi immobili conosciamo la direzione ma non ci andiamo è una specie di participio presente che non si vuole risolvere in azione questo secondo me perché ancora una volta dobbiamo abbandonare tutto un corollario di parole di stereotipi che ci portiamo addosso e cominciare a lavorare su una parola che è quella che è meno utilizzata nel vocabolario antimafia ed è la parola responsabilità invece che è quella sulla quale bisogna fare appello e che ci convolge e che ci riguarda tutti come cittadini dico un'ultimissima cosa da ex gioveno ho fatto 40 anni qualche giorno fa quindi non sono più giovane io sono nato il giorno della strage di Capaci come tutti i miei coetanei avevo 15 anni ero in 92 sto andando a giocare a calcetto dalla radio arrivò questa notizia e da allora cambiò la vita mia tutti i miei compagni gli amici e a me e alla mia generazione ci hanno allevato come un esercito di cittadini antimafia e io col tempo insomma e con lo studio ho capito quanto pericolosa sia la parola antimafia perché in realtà rispetto alla pienezza della vita alla sua meraviglia alla sua rimpirsi di sfumatura definirsi antimafiosi che è la cosa che facciamo tutti lo fanno per prima i politici che poi vengono arrestati per mafia e per corruzione a definirsi antimafiosi è troppo facile perché è facile definirsi per ciò che non si vuole essere io che cosa voglio essere la vita antimafiosa e vive facile chi è che vuole essere mafioso alzi la mano insomma è come se uno dice tu che sei vegetariano no anticarnivoro è troppo facile definirsi per ciò che non si vuole essere la vera sfida per noi siciliani in quest'ultimo miglio è proprio se lo vogliamo percorrere tutto è proprio cominciare a definirci per ciò che vogliamo essere essere antimafiosi lo sappiamo l'abbiamo detto cominciamo a porci la domanda davvero più imbarazzante per tutti cosa vogliamo essere cosa vogliamo diventare ecco la mia speranza è che alla fine noi decidiamo tutti diventare cittadini responsabili che vogliono vivere uno stato di diritto con uguali regole per tutti e pare opportunità per tutti che poi credo che fosse anche il sogno più grande di Giovanni Falcone e di tutti coloro che sono morti per la lotta alla mafia grazie credo che il desiderio di tutti Giacomo dovrebbe essere quello di essere davvero cittadini di questo stato potere fare i cittadini penso che a noi giornalisti il desiderio più grande è quello di poter esercitare ogni giorno liberamente l'articolo 21 della Costituzione tra le cose che hai detto dovremmo mettere in conto anche quante pressioni quanti tentativi di bavaglio nel nostro lavoro incontriamo io sono legato all'articolo 21 facciamo parlare Massimo Massimo Russo poi oggi il politico non c'è e io ti faccio la provocazione ricordi i tempi in cui rappresentavi eri parte del potere politico poi il mio ricordo più forte è ai tempi del Maxi Processo Omega a meno tu ce l'hai questo ricordo quando finì quel processo si disse che la mafia trapanese nel 1998 aveva ricevuto un colpo mortale era più che altro un detentativo per chiudere pagina e infatti la mafia riaprì un'altra pagina e caro Giacomo molti di quelli là condannati al Maxi Processo Omega che evitarono le condanne all'ergastolo furono assolti da delitti anfiosi oggi sono liberi quando Guido Ruoto lo fece quell'articolo che ma molti sono ancora all'ergastolo molti sono all'ergastolo qualcuno è uscito messo dal 41 bis ma molti di quelli che hanno evitato il condannato all'ergastolo sono liberi sono messi lì che aspettano forse qualcosa la fanno quindi Massimo Russo politico la testa Camassa dice alla regione dovremmo fare un'egicolpedia tre cani tre cani bastano? forse forse quindi hai da rispondere su due diversi fronti lo faccio volentieri vedo qui molti giovani il che mi fa molto piacere ma vedo molte persone con i capelli bianchi o senza capelli come me e a queste ultime persone voglio rammentare un convegno del 1992 forse qualcuno era pure presente presso la sala degli ospiti allora c'era Gianni Di Stefano al liceo classico di Mazzara il tema era politica corruzione e mafia marzo 92 io giovane pubblico ministero dopo un'operazione importante di pubblica amministrazione esordì con un episodio che voglio riproporvi per poi fare delle considerazioni passeggiando da piazza della repubblica mi ero diretto verso la maestranza perché una volta si diceva così le maestranze via Garibaldi all'imbocco di via Garibaldi mi tirò dentro un il suo negozio un noto gioielliere amico il quale mi abbracciò Massimo come stai complimenti ci vieni vieni e mi portò dietro nel bancone di dietro e mi disse Massimo ma quanto hai impiegato per venire a piazza della repubblica qui mi è sorpreso a questa domanda è impazzito non riuscivo a cogliere il senso quanto tempo hai impiegato come quanto tempo hai impiegato e mi disse tre o quattro volte non riuscivo a capire fino a quando risposi un minuto due minuti trenta secondi pensate da piazza della repubblica all'inizio di via Garibaldi ah ce lo sai ieri pomeriggio è venuto qui Mariano Agate che era stato scarcerato da poco chi ha memoria ed è entrato e disse mi per fare i cento metri ho impiegato due ore perché era stato scarcerato e la borghesia mazzarese e non soltanto la borghesia andava incontro lo abbracciava e quindi interrompeva il suo incedere ora io vi dico però oggi nel 2017 con lo stesso tema possiamo dire che le cose sono come nel 1992 dobbiamo sempre pensare che questo paese non sia cambiato o non ci siano state delle vicende che hanno volente o non volente cambiato il corso delle cose a cominciare purtroppo dal maggio e dal luglio del 1992 io penso che le cose sono cambiate e che come diceva giustamente Giacomo di Girolamo dobbiamo far parlare anche i fatti e poi dobbiamo cercare di avere una chiave una cifra linguistica comune io da magistrato sono veramente sensibile alla prova al fatto alla cosa concreta e su quello io voglio imperniare i miei ragionamenti è anche vero che per certe tematiche c'è anche la sensazione c'è anche l'intuizione c'è anche un comune sentire che non è una prova che non è un fatto allora io dico che in questi vent'anni venticinque anni sono state fatte tantissime cose io sono appartengo a quella genia di magistrati che ha colpito la mafia militare e quindi voglio dire avrà dato un contributo molto scarso alla causa mentre ci sono tanti miei colleghi che giustamente si occupano dei sistemi e quindi quelli sono i magistrati che veramente operano per il bene della società ma se vogliamo parlare delle cose serie lo vogliamo fare seriamente dobbiamo dire che io parlo di cosa nostra perché è l'unica realtà che conosco e quindi mafia cosa nostra e devo dire così con quella con quel portato esperienziale che nasce che deriva dal rapporto con colleghi seri con gli insegnamenti che direttamente o indirettamente ha avuto dai miei maestri che non nomino perché poi il rischio è ma si nominano sempre le stesse persone però io penso che la forza vera di cosa nostra come di un paese di uno stato è la forza militare perché capito si vis pacem parabellum la guerra la prepari sempre in un certo modo e quindi io mi avventurai strategicamente io ve lo confesso con una strategia di demolire la forza quella che impediva al cittadino di vivere tranquillamente perché rischiava la vita all'imprenditore di essere condizionato e di rischiare la vita quindi bisognava colpire consapevole che quella mafia utilizzata anche da altri poteri poteva essere utilizzata solo perché poteva dare in cambio qualcosa cioè la forza il controllo del territorio l'essere politico l'essere mediatore l'essere l'attrattore del consenso in una piccola cittadina o grande cittadina e quando è grande cittadina ci sono le zone ci sono le borgate per cui sanno pure le pietre che c'è Tizio Caio che ha un ruolo di capo di riferimento perché perché è uno sbrigafaccende perché sistema perché governa in modo parallelo e noi sappiamo perfettamente che storicamente questo è stato concesso è stato concesso dalle forze dell'ordine le quali avevano interesse a mantenere una certa calma e sappiamo dobbiamo fare tutta la storia della mafia io l'ho vissuta la conosco l'ho conosciuta così e quindi ci sono stati questi sappiamo che ci sono state queste cose quindi ho colpito quell'area della mafia trapanese che in un processo come dire di evoluzione che doveva poi alzare il livello perché la gradualità è una metodologia importante perché se come magari è stato fatto anche alla procura di Palermo si alza troppo l'interesse si perdono per strada certe cose che non si recuperano più quindi io penso che in questi vent'anni venticinque anni la magistratura le forze di polizia hanno fatto molto anche moltissimo si poteva fare più certamente di chi è la responsabilità è varia ma è cresciuta una generazione di persone quindi abbiamo un esempio che si è formata eticamente con le bombe di Capaci e di Via D'Amelio che ha reagito che ha preso le distanze che ha avuto netto il confine di stare in un posto o di stare in un altro posto però poi c'è stata l'impostura dell'antimafia di quel potere che quasi ripetendo come dire stalinisticamente l'organizzazione mafiosa ha detto io sono l'antimafia e quindi do la patente a tutti quanti politici hanno dato la patente e noi abbiamo accettato quest'andazzo che magari qualcuno venisse da me a darmi la patente dell'antimafia gente che non ha mai conosciuto un mafioso ma parlo anche di giornalisti io vedo leggo pontificano ed è giusto che il giornalista legga una cosa è come dire vivere e volare sulle ali del brand concetto a te molto chiaro molto caro e chiaro rispetto ad altri una cosa è invece crederci e come dire introiettarla metabolizzarla all'antimafia perché tra politica corruzione e mafia la vera questione la vera sintesi è la questione della legalità in Italia e se vogliamo dirla tutta sotto la questione della legalità ci sta la questione etica non morale etica in Italia sviluppiamo questi concetti corruzione la corruzione criminale i sistemi criminali la corruzione io vi racconto la mia esperienza Alessandra mi ha fatto un grande passaggio assist e vi dico due cose non ho mai detto né i giornalisti non attenti a vedere cosa si faceva seriamente sapete quali sono gli atti più importanti che ho fatto come assessore della sanità che mi permetto di dire era il settore più compromesso della regione siciliana per le vicende che conosciamo e che non ripetiamo oltre che essere il settore in Italia più attrattivo per le mafie se la vogliamo dire così o per i sistemi criminali perché la sanità regionale perché non esiste la sanità nazionale le sanità regionali gestiscono il 70-80% del budget regionale stesso quindi io amministravo più del mio ministro dell'attuale ministro della giustizia come assessore della regione siciliana sapete quali sono stati i miei due più importanti atti giusto per dare una risposta nel senso intuito da Alessandra io da me è vissuto quando io sono entrato in via in piazza mi ricordo ma anche però l'ho cancellato come si chiama piazza Zino ho visto che chiunque entrava bene dopo una settimana ho chiamato il responsabile del palazzo ho fatto mettere i badge una una azione una iniziativa minima ma che era fondamentale perché per prevenire sapevo cosa accadeva in quell'assessorato dove gli interessati scrivevano i decreti dell'assessore e mi assumo la responsabilità di quello che dico qualcuno li portava all'assessore o agli uffici più che all'assessore e si firmava quindi io vi racconto che cosa significa la corruzione che cosa significa il rapporto perverso che c'è tra la pubblica amministrazione che amministra i nostri soldi e coloro che sono interessati ad avere quei soldi non per il bene comune da cui poi deriva anche il perseguimento dell'interesse legittimo dell'imprenditore del privato no erano soldi che venivano drenati in una logica assolutamente privatistica individualistica verso alcuni settori piuttosto che altri come si andava impunemente negli uffici si entrava e non c'è la traccia di questo e quindi da magistrato ma da buonsenso perché noi in Italia abbiamo perduto il buonsenso non è che poi il magistrato ha più buonsenso dell'avvocato viceversa o del politico io vi dico subito che a me veramente non c'è il buono e il cattivo e il cattivo e il buono cominciamo a dire queste cose dobbiamo avere il coraggio di dirle ci sono gli uomini magistrati ci sono gli uomini politici di un certo tipo magistrati di un certo tipo ci sono gli avvocati come ci sono i professionisti e quindi chi veniva lì doveva lasciare il documento veniva registrato su un hard disk e doveva dire io ho un appuntamento con l'assessore russo ho un appuntamento con Campanella piuttosto che con Giacalone e si ha un appuntamento dottore Camasso si salga e quindi lasciava traccia prima azione seconda azione e questa io devo confessarlo mi è costata e me la sono dovuta quasi rimangiare quando scrissi feci una una disposizione per la quale nessun deputato della regione poteva poteva avere accesso agli uffici della regione apriti cielo russo via le prerogative del parlamento ma no cerca di spiegare non violo niente tu sei parlamentare rappresenti un interesse pubblico se hai da dire qualcosa su un'azione amministrativa fai le interpellanze fai l'interrogazione no Alessandra questo non è il film questo l'ha scritto Massimo Russo in una circolare no 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 per dirti quando noi come dire criminalizziamo tutta la pubblica amministrazione chi ci dobbiamo aiutare i marziani dobbiamo aiutare le persone così che facciano le cose nell'interesse degli altri e cercando di prevenire realmente scrissi questa cosa è successo un casino successe un casino dovetti poi limitarla siccome avevo previsto che non potevano parlare dovevano parlare con l'assessore c'è un rapporto politico tu vieni per perrobrarmi la causa di Mazzara per dirmi c'è il problema dell'ospedale c'è il problema del porto c'è il problema della strada e ci mancherebbe altro ma perché devi andare a scuncicare il funzionario o l'impiegato intimidendolo mettendolo in una posizione dal quale difficilmente poi l'impiegato può reagire ho dovuto rimangiarmela e questa è l'unica cosa che mi pesa perché non ho avuto la forza di farla valere nella sua radicalità e però ovviamente tutto questo è passato sotto silenzio io sono stato quattro anni e mezzo in una pubblica amministrazione e che pubblica amministrazione la Sicilia la sanità la sanità post-cuffariana ma io posso dire che ho trovato tante persone per bene i famosi dirigenti i famosi certo non è che si possa ammazzare quando quando certa stampa dice ci sono i forestali abbiamo tanti a parte che poi non è vero perché se uno studia i numeri dimostriamo che per esempio l'amministrazione pubblica regionale è certamente inferiore come numero a quello della Lombardia e del Lazio vai a vedere ci sono proprio degli studi di settore da parte dello Stato ma lasciamo perdere quando tu quando certi giornalisti che vivono anche di certe cose scrivono libri infatti un consiglio vorrei dare al prossimo Presidente della Regione chiamarsi questi due tre giornalisti che scrivono i libri di guardare io ho tanti forestali tanti impiegati ditemi qual è la soluzione li ammazzo li licenzio che faccio devo gestire devo riorganizzare la macchina devo renderla efficiente andiamo alla corruzione io ho trovato delle persone per bene mi permetto di dire io non ho avuto un avviso di garanzia mai e posso anche dire che se bastava sbagliare tanto che avrei ricevuto più di un avviso di garanzia quindi non c'era una condiscendenza giustamente aggiungo ce ne ho tante persone per bene che per la prima volta avevano un obiettivo un programma ed erano controllate due battute per dire che io sono veramente contro il pan penalismo lo dico da magistrato non possiamo pensare che tutto si risolve con il diritto penale o siano esse misure di prevenzione o misure penali lato senso non si risolve così si risolve con la responsabilità e con la responsabilità politica ma ci arrivo quindi la corruzione io ho trovato le persone per bene motivate che mi rimpiangono che hanno fatto molte cose che amministravano milioni milioni io gestavo 8 miliardi e mezzo di euro no 800 milioni di euro gente che firmava i decreti viva Dio non è successo nulla qual è stata la novità la novità è stata che ho lavorato sulla trasparenza sulla riorganizzazione sui controlli qui è un problema di controlli e di volontà di fare controlli questo cambia perché i controlli sul codice sulle norme ci sono a voglia il problema è che non vengono eseguiti andiamo ai fatti e alle sensazioni io faccio il magistrato come Alessandra perché siamo allo stesso concorso da oltre no quasi 30 anni 30 anni ho fatto il pubblico ministero adesso da quasi 5 anni faccio il magistrato di sorveglianza come pubblico ministero ho trattato i casi di corruzione 7-8 venendo qua facevo menta locale non ci sono arrivato dice vabbè magari tu ti occupavi di mafia vabbè e io sono a Napoli in un altro distretto e lì vedo le cose perché tratto le sentenze passate in giudicato cioè tratto le condanne sapete in 4 anni e mezzo questo ve lo dico con certezza tra abusi di ufficio corruzione e concussione allora uno l'ultimo era un maresciallo dei carabinieri che prendeva i soldi da un mafioso la Cassazione gli ha fatto pure cadere l'articolo 7 l'altro era un ingegnere mi pare una zona di caserta non ricordo bene che prendeva i soldi ma poche cose e l'altro è un abuso d'ufficio di un altro responsabile amministrativo di un comune tre allora se uno legge i dossier dell'Europa o di queste fondazioni che si occupano l'Italia è al settimo dobbiamo metterci d'accordo poi vi dico come la penso io quali sono i dati quelli giudiziari l'Italia non ha corruzione quali sono i dati la sensazione chi mi dice la sensazione dell'avvocato Vella che sia diversa da quello di mio cugino Danilo la sensazione io la sensazione quando si quando emettiamo giudizi sulle sensazioni insomma io sono cauto è però anche vero che queste tre sentenze che ho gestito e gli altri sette otto casi sono quei rivoli maleodoranti che salgono su dal cosiddetto fiume carsico scorre sottoterra ogni tanto esce fuori questo rivolo e dice allora tu intuisci cacchio forse sotto scorre qualcosa che mette a rischio la solidità del terreno questo esiste certamente esiste e non è che mina la solidità del terreno la corruzione minuscola patologica che esiste in Italia come esiste in tutto il mondo mina il basamento della nostra democrazia la corruzione sistemica e mi fa paura quello che ha detto Alessandra perché la mia soluzione è completamente diverso guai se i magistrati possono andare in Parlamento e andare a criminalizzare il parlamentare che si è venduto no ho detto che questa non è una cosa che si può fare ma che esiste infatti sto dicendo ma ho detto ma siccome è stato fatto come sai è stato fatto allora è ovvio che qual è poi la differenza tra opzione politica c'è chi vuole mantenere il trasporto su gomme contrariamente a un ministro che vorrebbe per esempio l'energia rinnovabile o altro modo di favorire un trasporto via mare che è meno inquinante eccetera sono opzione politica allora qual è il problema il problema è quello del controllo e come ha detto giustamente Alessandra esiste questo mina perché se una lobby di potere una lobby finanziaria cambia è in grado di far cambiare a un parlamento a un consiglio comunale a un consiglio provinciale a un'assemblea regionale a un parlamento nazionale a un parlamento nazionale e parlo anche di ipotesi non italiane non locali e dobbiamo porcelo un problema e quindi dobbiamo trovare il linguaggio comune qual è la magistratura no no è il principio di responsabilità di responsabilità politica perché delle due l'uno o diciamo che questa democrazia non va bene perché il voto di Mazzara 2 non può valere come quello di Mazzara piuttosto del voto dell'Azisa come quello del voto di Piazza Pretoria o di Piazza Politeama dobbiamo avere il coraggio di dirlo oppure dobbiamo dire che c'è un problema di cittadinanza di cultura di eticità che ovviamente non risolvi con il penale risolvi con il principio di responsabilità andiamo ai casi concreti perché sono poi i casi concreti quelli che ti fanno riflettere che qui nessuno deve fare letture magistrali solo condivisioni esperienziali questa è la mia esperienza la penso così se poi qualcuno di voi riflette è già un grande successo questo signore qua ha scritto una lettera bellissima ad un ragazzotto lettera aperta quindi la cito non ho timore perché è veramente un esempio sono due esempi uno negativo a mio avviso uno positivo è il figlio di un soggetto non so se è stato condannato ma credo di sì in primo grado che ha una responsabilità enorme e facciamo parlare le sentenze ai giudici su un settore fondamentale vitale per la vita della nostra economia dei nostri figli la formazione in Sicilia viene lanciato nel lagone politico il che lagone politico non deve essere visto come qualcosa di negativo io ho sempre pensato che la politica è nobile e non dovrebbe stare qui dovremmo dire politici corruzione e mafia perché la politica di cui parliamo qui ha tradito la sua stessa nobile funzione questo ragazzo si troverà catapultato in una competizione elettorale figlio di cotanto padre è il padre che ha corrotto il padre che ha responsabilità penale diciamo il padre la madre lo zio e la zia credo scusate rispetto a questo qual è la sanzione che meriterebbe che le persone per bene gli voltino le spalle e dicano noi non ti votiamo se possiamo cara Marilinda rivederci il 6 novembre potremmo commentare se la sua lettera il mio auspicio e il mio realismo hanno o no avuto un riscontro nella realtà a un certo punto dobbiamo pure come dire accontentarci di noi stessi io sono sempre più convinto lo dico da magistrato tu mi volevi fare esordire con il codice antimafia con il codice di prevenzione antimafia sì un ulteriore strumento e tra dieci anni quando ci vedremo quando mio figlio tra vent'anni verrà forse a parlare di mafia ma pure mio padre vent'anni fa ne parlava e io quando nel 92 ne parlavo venivo dall'esperienza di appena dieci anni prima di dalla chiesa e di la torre che avevano pensato al 416 bis cosa voglio dire c'è una storia purtroppo molto negativa in questa storia c'è come dire una cosa fisiologica che è diventata patologica o meglio c'è una patologia che nella sua patologia ha una sua fisiologia che però ha straripato abbiamo fatto un cammino abbiamo cercato di rispondere a mio avviso abbiamo risposto ma non bisogna mai abbassare la guardia guai a considerarmi come un riduzionista del fenomeno certo non condivido molti miei colleghi che parlano della mafia mondiale perché è un modo come dire a volte ho la sensazione netta io lo dico tanto non me ne frega nulla che chi 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 la spara più grossa lo fa quasi per dire guardate c'è la mafia quindi trovo legittimazione a stare nell'antimafia no l'antimafia c'è dentro la vivi in silenzio la vivi la vivono gli insegnanti i poliziotti le persone per bene che sono nate con i valori che mi ha insegnato la mia famiglia dell'onestà del sacrificio e della dignità cominciamo a a ritornare nelle agenzie educative nelle famiglie nella scuola certo una scuola distrutta sappiamo dove viene la distruzione alla scuola avete visto Pasquale Russo è stato professore mio all'università di Firenze ho preso trentellota tributario vi assicuro non c'è stato niente stiamo parlando del 1981 82 e lui l'ha detto come stanno le cose ed è una cosa sconcertante ma non è sconcertante dal punto di vista penale certamente lo è è sconcertante dal punto di vista etico perché un'agenzia educativa che dà questo messaggio a un giovane che vuole impegnarsi che vuole fare da sé che vuole sganciarsi dai genitori che io non penso che i figli siano il vero problema nostro no il problema è dire le regole le regole quella vicenda le sconquassa le regole noi avremo tanti giovani che vanno via e vanno via non perché non c'è il lavoro anche perché non c'è il lavoro non solo perché non ci sono le opportunità ma vanno via molti per non prestarsi al solito gioco della raccomandazione del vincolo clientelare di quello che è il nostro familismo amorale e che se ne vadano il punto è che dobbiamo creare le condizioni perché queste persone ritornino io sono convinto a distanza di 30 anni barra 25 anni che c'è un problema etico nel nostro paese ci sono troppi toni accesi sono convinto che certi passaggi politici in questo paese hanno disgregato il tessuto etico ed è chiaro a chi faccio riferimento ne paghiamo anche le conseguenze la questione della legalità è anche una questione che ciascuno deve stare al suo posto la politica deve tornare a fare la politica ad assumersi l'onere di avere una visione per il paese e di rispettare essa stessa le leggi che si dà questo è il vero dramma questo è il punto centrale dell'asserito conflitto della magistratura io non penso che la magistratura abbia almeno nel suo complesso almeno nel suo complesso diciamo le cose come stanno almeno nel suo complesso di attaccare la politica magistratura se arriva un esposto ha il dovere per quella regola di iniziare un procedimento di dare un avviso di garanzia se fa un atto garantito di accertare un fatto però dobbiamo porci un problema che il politico anche quello serio non deve essere spaventato l'impiegato anche quello serio io posso raccontarti Alessandra della paura dei pubblici funzionari più che della magistratura ordinaria per esempio della procura della corte dei conti perché? perché quando verrà una forza politica e dirà bene in questo paese noi abbiamo 220.000 leggi ma non solo abbiamo 220 e passa scusate ma con i numeri non sono molto preciso abbiamo una massa enorme di leggi non solo abbiamo questa massa enorme di leggi abbiamo centri di produzione normativa che sconquassano la certezza del diritto altro che brocardo latino qui noi aumentiamo l'opacità del sistema perché la corruzione quella sistemica e quella piccola perché hanno la stessa origine etica che è l'interesse individuale l'interesse di parte si sconfigge con la trasparenza con la semplificazione con la responsabilità noi dovremmo anche immaginare un'altra forma di organizzazione burocratica come esiste in altri paesi siamo sicuri che la gara d'appalto sia il sistema più corretto e non anche che io invece comunità controllo il risultato di un soggetto che dà anche certo che è un discorso molto complesso io sono per il principio di responsabilità io ti controllo sul risultato e devi garantire il perseguimento e il raggiungimento di quei risultati ma è la trasparenza trasparente legale con una possibilità del cittadino di accedere agli atti di partecipare anche ai procedimenti questo è previsto dalle norme noi abbiamo qui stiamo tagliando così ma insomma se ci fosse cantone rivendicherebbe ma abbiamo fatto questo però è anche vero che i piani anticorruzione si stanno rivelando come era ovvio soltanto qualcosa di burocratico la verità è che ci sono gli uomini che fanno cambiare le cose le persone per bene e il compito della cittadinanza e della comunità è individuare nei posti di potere nei posti di rappresentanza le persone per bene perché se la democrazia se la democrazia nostra se il nostro paese la nostra democrazia muore illanguidisce o si sviluppa dipende soltanto da ciascuno di noi beh siamo tornati dovete darmi altro e siamo tornati al punto mio iniziale cioè cosa facciamo ognuno di noi per fare funzionare per fare funzionare le cose a me piace raccontarti io nella mia vita faccio anche il pubblico dipendente e giustamente per la veste che tocca al giornalista di cosa mi occupo della legge per la trasparenza e l'anticorruzione mi piace raccontarti questa esperienza perché io gestisco il sito del mio ufficio e un giorno ho misi sulla home page della trasparenza una voce che doveva servire a rendere più chiaro un dato più leggibile sai che è arrivato il disco rosso dell'anticorruzione perché non potevo metterlo e noi oggi abbiamo come dicevi tu piani per l'anticorruzione della trasparenza dove la zia Pippina se vuole entrare dentro e capire che cosa facciamo non lo capirà mai non lo capirà mai credo che sia il peggiore modo per pensare di poter combattere così la corruzione però io ho a fianco dottor Stacomasso che è un po' nervoso e che non è vero che siamo solo i giornalisti che entrano in contrasto può accadere anche altrove però è difficile questo sta dicendo poi alla fine noi non siamo in contrasto abbiamo partiamo no allora non è questo il discorso non essere in contrasto con Massimo che assolutamente tutto quello che ha detto io lo condivido tanto lo condivido che come voi forse non avete fatto caso ma vi ci faccio fare caso adesso quando io ho iniziato a parlare non ho parlato di mafia ho parlato soltanto di corruzione perché sono d'accordo dissimo con Massimo la mafia militare l'opera della magistratura però ci sono voluti i morti però ci sono voluti i morti ed è stata un'opera non dello Stato o meglio dello Stato sotto il profilo del versante penale quindi un'altra particolarità tutta italiana quindi non c'è stato un fenomeno a parte poi una certa coincidenza con l'opinione pubblica di quel periodo ma c'erano i morti io ho iniziato parlando soltanto di corruzione perché io oggi se devo parlare della Sicilia e non devo parlare della Calabria perché se parlo della terra dove lavora adesso mio marito mi sono limitato alla Sicilia perché poi l'Italia è Italia e noi parliamo di Sicilia e poi dobbiamo parlare di Calabria e poi magari in questo momento dobbiamo parlare di Puglia dove ancora il fenomeno militare è presentissimo questo vuol dire che siamo uno stato comunque molto debole parliamo di Sicilia siamo qui e io non ho parlato di mafia però bisogna stare attenti perché non parlare di mafia perché è chiaro che se tutto è mafia niente è mafia però quindi tutto d'accordo quello che avete detto voi l'antimafia tutte queste porcherie che sono state fatte all'antimafia mi fa ridere per me queste sono cose ovvie mi fanno schifo queste cose dell'antimafia di facciata Massimo lo sa io appartengo a una categoria di persone che sta tutto il giorno col sedere sulla sedia a lavorare 24 ore su 24 a non fare discorsi inutili però però la corruzione da noi certo i processi sono sei ma perché sono sei perché la corruzione è un sistema e perché la corruzione sono tutti d'accordo e perché la corruzione tocca proprio il livello politico e io non ho mai visto uno che si danneggia da solo questo è il problema caro Massimo tu sei andata alla sanità e hai fatto io sono sicura non ho dubbi su quello che tu hai fatto non ho dubbi ma intanto tu ci arrivavi da magistrato e avvicinarsi a te era un po' più difficile mettiamola così lo vedo anch'io io ho lavorato 16 anni nella mia città non ho ricevuto mai una raccomandazione sono tutti santi i miei concittadini no sapevano con chi avevano a che fare neanche pensavano quindi io condivido tutto confermo tutto ma non possiamo parlare di regola forse dovremmo parlare di eccezione poi tu hai avuto dei dipendenti bravissimi sono sicura che sotto l'eggida di una persona seria sotto la tutela di una persona seria si potevano muovere con libertà l'esperienza che io ho visto in molte indagini in questi ultimi anni fatte da mio marito tragiche di un sistema talmente pervasivo caro Massimo che forse tu qualcosa ti sei o forse siccome si era spostato su altri assessorati forse non te ne sei un sistema talmente pervasivo dove gli imprenditori vanno a scriversi loro gli appalti nelle sta ma quando proprio se li scrive ma se li scrivono loro lì dove il povero funzionario che dice scusate io veramente scusate non sono d'accordo viene completamente è pazzo è sclerato è visionario non ha capito niente nella migliore delle ipotesi è ignorante quello che però voglio dire io il problema qual è? il problema è stimolare l'interesse del cittadino come nella lotta alla mafia noi possiamo io devo sempre dico sempre perché è importante lottare alla mafia è importante perché noi non possiamo più vivere in un tessuto sociale come si viveva prima dove l'impresa mafiosa era un'impresa che avendo i capitali illeciti non aveva bisogno di rivolgersi alle banche o meglio se si rivolgeva alle banche trovava i finanziamenti senza fido che a me non darebbero quindi aveva una posizione sul mercato che gli ha consentito negli anni di creare un sistema di potere per cui i nostri figli per la maggior parte per molti anni sono stati e forse sono ancora per ragioni diverse condannati a essere assunti in nero perché o ti assumeva l'impresa mafiosa o non ti assumeva nessuno imprese dove non ci sono rispetti e tutele della tutela del lavoro non c'è rispetto delle regole dell'abusivismo edilizio imprese tutte costruite in modo illecitamente che hanno danneggiato questa economia dove adesso noi dove abbiamo un lavoro nero più che nel resto d'Italia e io dico questo quando vedo i giovani dico per questo per queste ragioni dobbiamo ricostruire un mercato sano un mercato vero ma adesso questo in Sicilia come in Italia ma in Sicilia di più perché io vi voglio raccontare una cosa nel 2001 quando venne arrestato Vincenzo Virga che era un mafioso il capo del mandamento di Trapani ed era un mafioso che si interessava particolarmente di impresa perché era un imprenditore le intercettazioni hanno registrato un fenomeno veramente curioso di solito uno pensa appunto arrestata la mafia militare tutti gli imprenditori saranno contenti che è bello finalmente libera concorrenza che finalmente è una cosa siccome la struttura del nostro per cento anni nel mercato non esisteva questi non erano abituati a fare mercato sulla base della migliore qualità del proprio prodotto quindi il mercato quello normale io faccio meglio di te e quindi lo vinco l'appalto questi erano abituati a ripartirsi il bene e allora mancando quello che gli organizzava il sistema la sceneggiata era tu da dove sei andato io sono andato al Castelvecciano ma quello ha tante cose da fare quello era Matteo può pensare tu dove sei andato io sono andato a Paceco ma non sono tanto affidabili tu dove sei andato io sono insomma questi cercavano padrone cercavano padrone allora quello che caro Massimo il problema attuale è che questo sistema di immobilismo durato 50 anni è profondamente all'interno della nostra struttura quindi la concorrenza leale il mercato le cose meravigliose tutti questi dipendenti pubblici bellissimi che hai visto tu io in una realtà non li vedo vedo una concorrenza malata aspetta ora l'aver fatto politica bene chissà zitta che dobbiamo fare e appunto questo è il problema questo è il problema allora Massimo come tanti ce ne sono e io ho riscatto un po' rotto dei convegni dobbiamo capire perché voglio dire il piano anticorruzione che bellissimo allora Massimo allora un altro equivoco io non sto parlando di penale non sto parlando di penale nonostante sia il giudice penale ritengo che come te hai detto non sono i sistemi del penale che risolvono il problema e anzi faccio un esempio che faccio sempre per fare spiegare per cercare di spiegare cosa si deve fare però è un cambiamento di struttura del sistema che non è facile che non è facile perché l'impresa siciliana non è abituata a fare il lavoro dell'impresa cioè la migliore qualità del prodotto che è questo l'imprenditore questo non esiste primo secondo il siciliano l'opinione pubblica ecco questo è un settore importantissimo finora abbiamo fatto la legalità dell'antimafia giusto nelle scuole esatto facciamo la legalità di comprendere questi fenomeni spieghiamo nelle scuole abbiamo tante volte detto quanto era buono Falcone quanto era buono Borsellino che erano tutti santi eroi navigatori magari ci dobbiamo parlare anche del fatto che fossero persone normali che hanno fatto il loro dovere dopodiché però adesso dobbiamo utilizzare un altro sistema dobbiamo spiegare che questo tipo di imprenditoria questo tipo di politica che abbiamo fa sì che noi non abbiamo i servizi che ci meritiamo che siamo poveri non è che siamo poveri per caso tra le tanti studi che sono stati fatti in materia di corruzione ce n'è uno interessante che dice come si pesa la corruzione ci sono tutti questi studi tu dici siamo i sesti gli ottavi 60 miliardi ce n'è uno che dice guardatevi la differenza tra il valore delle opere pubbliche realizzate quello reale è il valore della spesa che è stata affrontata per realizzare le opere pubbliche e vedete che c'è una differenza talmente enorme tu questa differenza in parte è dovuta all'incapacità in parte alla burocrazia ma in parte di che cosa parliamo parliamo di una corruzione diffusa endemica piccola media grande e anche del legislatore che fa scelte politiche condizionate da lobby questo ma scusami fammi finire o perché hai fatto un comizio bella verità bella verità non è che qua quindi non è che io penso cose diverse ma ti dico di più io vado molto oltre io ho parlato io amo questo testo unico io devo dirti che certi ai pruriti però sul testo unico sull'allargamento ai corrotti ho la preoccupazione di far entrare la gente provocatore per i corrotti io non ce l'ho in un paese in un paese che è malato di corruzione anche se l'autorità giudiziana non la scopre ma è assolutamente normale perché se siamo tutti d'accordo non ci scopre nessuno quindi facciamo qualche intercettazione poi bisogna interpretarle le intercettazioni poi questi poi vuoi mettere il mafioso e il politico e se gente voglio dire non è che è molto più difficile non solo e i processi che vanno tutti perché saltano certe volte i processi quello che c'è di inquinamento probatorio anche lì i corrotti vanno ormai tutti massimo agli arresti domiciliari io non sono giustizialista per me il giustizialismo italiano è prevedere dieci anni per il furto di rame quello è giustizialismo non è giustizialismo prevedere che se tu sei un corrotto ti devo siccome tu hai strumenti intelligenza capacità avvocati sistemi molto più io ti devo isolare perché l'inquinamento probatorio nella corruzione l'inquinamento probatorio nella corruzione è molto più pericoloso dell'inquinamento probatorio che può fare quello che fa il furto di rame consentitemi voglio dire assolutamente in idoneo e manco il mafioso militare manco l'ottimo Agate Mariano quindi io vorrei anche che ci fossero meno pruderi della nostra politica a dire vabbè facciamolo questo agente provocatore ma dico se abbiamo un dipendente al quale va l'agente provocatore gli offre 300 mila euro per fare una determinata attività di interesse di una certa impresa e lo scopriamo perché l'agente provocatore io non è che dico che lo dobbiamo mettere in galera però lo licenziamo almeno ecco facciamo queste cose in Italia ha il diritto la cosa però se l'agente provocatore facciamo sempre lo stesso discorso lo metti per i reati invece di droga lì va bene perché lì è criminale quello che faccia la droga è criminale quello che invece ci ha reso tutti poveri o che ha da fatto sì che i nostri servizi non esistessero che non ci fosse concorrenza e quindi ha affamato tutti quello che ci costringe ad avere i nostri figli assunti in nero perché le imprese sono tutte fatte come abbiamo detto perché quando noi intanto diciamo sono le imprese sequestrate li licenziano tutti ma il 90% degli assunti nelle imprese delle imprese e cosiddette mafia erano assolutamente inutili sono stati assunti perché bisognava accontentare il politico tot che ti ha fatto ottenere il finanziamento il politico tat che ti ha fatto e quindi per cortesia diciamo l'Italia è quella che è e non facciamo troppa filosofia poi c'è Massimo che era bravissimo mi fa piacere l'eccezione che conferma la regola detto questo vabbè e c'era anche qualcun altro bravo ce ne sono eccezioni Massimo ma il sistema non è quello ma io non sto criminalizzando nessuno perché parto dalla criminalizzazione del fatto che la politica è dei siciliani queste persone le eleggiamo noi questa impresa la vogliamo noi questo sistema lo vogliamo noi ma questo sto dicendo e poi consentitemi e finisco perché se no è un altro comizio vorrei dire una cosa una predica esatto un predicatore mio marito me lo dice ogni tanto mi sembri un predicatore americano e sai quelle che si mettono lì e dico ah quasi no senza musica però un'altra cosa che volevo dire è questa un'altra cosa che manca in questo paese è l'assunzione di responsabilità dell'amministrazione attiva questo è un discorso che davanti a Digirolamo ho fatto tante volte e io vi voglio fare un esempio che faccio sempre ma perché è soltanto paradigmatico l'Italia è un paese voi oggi una delle emergenze sui giornali lo vediamo ogni giorno è quella dell'abusivismo edilizio ora io vi raccomando funziona così in Italia c'è un sindaco e un ufficio tecnico del comune che ne sanno molto più dei magistrati di abusivismo edilizio sanno se un immobile è costruito in un certo modo doveva essere fatto in un altro modo se viola il vincolo tot se è costruito dove c'era il vincolo idrogeologico sono molto più preparati di noi e loro hanno anche un potere che una volta che accertano che l'immobile è abusivo dopo 90 giorni lo possono demolire e dopo 90 giorni è una cosa efficace efficiente e anche meno dannosa di quello che è invece no cosa fa la politica italiana ecco perché dico io c'è qualche cosa che è un sistema la politica italiana stabilisce che tutto questo si fa in un processo penale nel processo penale arriva quello dell'ufficio tecnico e noi diciamo è abusivo il bene? sì perfetto facciamo una sentenza questa sentenza di primo grado di secondo grado la cassazione poi facciamo una bella condanna penale quando non arriviamo alla prescrizione quindi facciamo una bella condanna penale che non serve assolutamente a niente e allora uno dice ma perché? ma come mai? lo dico subito io perché come? ma voi ve lo immaginate un sindaco e qualche sindaco l'abbiamo avuto però stiamo attenti che molte demolizioni sono state fatte perché i pubblici ministeri avevano minacciato l'omissione di atti d'ufficio e non per una scelta di amministrazione attiva e diciamo andiamo avanti comunque ve lo immaginate quel sindaco che a 90 giorni applica o una enorme sanzione pecuniaria a chi ha realizzato l'immobile abusiva o lo fa demolire lo immaginate questo sindaco alle prossime elezioni certamente non sarà più sindaco questo è questo è un esempio paradigmatico del pan penalismo del dire questo problema invece di risolverlo lo affidiamo al giudice penale che tanto faremo un bel processo e non si risolve e questo vale per la disciplina sui rifiuti per la disciplina sulla caccia per la disciplina sull'alimentazione ma stanna perdone per dire l'assetto culturale questo stesso eseglio se lo portiamo non in Germania ma se lo portiamo in Alto Adige il sindaco che non abbatte la casa abusiva non verrà eletto il sindaco che abbatte la casa abusiva in Sicilia in Calabria nelle publie in Roma viene rieletto sicuro no quello non viene rieletto quello che le abbatte non viene rieletto ma io dico come dire la stessa vicenda viene vissuta diversamente e allora facciamo basta ho finito facciamo facciamo un veloce giro Walter no volevo dire una cosa velocissima e poi fare una domanda dottorista Camassa ma anche Massimo Russo e Rino insomma che ne sanno più di me allora dovete considerare a proposito di corruzione nel nostro paese che in questo momento il primo partito in Italia il Movimento 5 Stelle è quello più permeabile alla corruzione e ve lo dico non per sentito dire insomma ve lo dico perché il Movimento 5 Stelle ha un sistema di decisione della sua linea politica che si basa sulla consultazione dei suoi iscritti tramite un server che non è accessibile a tutti tranne al proprietario ebbene il Movimento 5 Stelle decide per esempio lo sta facendo in questi giorni se appoggiarono l'installazione di nuovi impianti solari nel paese con una votazione tra gli iscritti che nessuno controlla questo rende oggi mandato di fatto per me a tutti i tipi di lobby piccoli e grandi del nostro paese e infatti il vero problema è che hanno il Movimento 5 Stelle in questo periodo è che chiunque ne fa sosizza nel senso che chiunque arriva e fa quello che vuole la cosa tra l'altro è grave secondo me e siamo nel populismo digitale perché è anche vero che un partito che mette in votazione tutto se è a favore o no per l'eolico se è o contro o no l'ingresso gratis nei musei per coloro che sono 1,60 non so eccetera eccetera e un giorno e che un giorno decide di essere a favore dell'accoglienza per i migranti e un anno dopo rifanno la votazione scoprono di essere contro un giorno un partito così potrebbe anche decidere di essere d'accordo sulla pena di morte insomma perché la metà degli iscritti più uno decide di essere favorevole alla pena di morte e in quel caso cosa facciamo questo era la mia considerazione la domanda e sono velocissimo diceva la dottoressa Camassa nel 2001 viene arrestato Virga e gli imprenditori vanno in fibrillazione ora che facciamo tu e che ti rivolgi perché sono imprenditori che non hanno avuto mai un riferimento di libero mercato la domanda che faccio io insomma da uomo della strada lo Stato le istituzioni insomma ha mai offerto a questi imprenditori un'alternativa perché siccome lei è un problema anche culturale nel senso che non sono stati mai abituati a confrontarsi e io magari immagino gli investigatori che sono all'ascolto riferiscono a magistrata a prefetto non lo so e allora là si dice facciamo qualcosa cioè facciamogli capire che non c'è solo la repressione ma c'è anche un'alternativa che domanda un po' balorda dico lo so però la devo fare chi vuole Siamo ritornati un po' indietro abbiamo visto che il problema della corruzione è un problema etico un problema morale noi dobbiamo stare attenti noi dobbiamo stare attenti a chi eleggiamo a chi portiamo in Parlamento e ovviamente mandando le persone per bene che probabilmente nei posti cartine abbiamo visto che sono l'eccezione la pubblica amministrazione può andare bene allora questo problema etico quindi il problema della corruzione non l'ho capito lo dobbiamo ripiegare sul cittadino che non si deve rivolgere al funzionario che non deve che non deve consentire una certa prassi oppure che deve immediatamente denunziare ma ci abbiamo pensato un attimino al problema ma questo cittadino noi lo tuteliamo abbastanza gli diamo delle garanzie che questo signore l'indomani mattina non pone in essere più questa condotta e che magari viene spostato il funzionario oppure questa garanzia non gliela diamo perché se non gli diamo noi questa garanzia è inutile parlare di problema etico di problema morale di funzionari bravi e di funzionari cattivi se io mi trovo un funzionario che domani mattina per una pratica me lo ritrovo nonostante ho fatto una denuncia perché i tempi della giustizia ci vuole il tempo per istruire un fascicolo per fare una comunicazione di notizia e reata e me lo ritrovo ancora lì e magari me lo ritroverò sempre lì perché nel frattempo il reato è prescritto noi non siamo nelle condizioni di risolvere questo problema cercando di moralizzare i dipendenti pubblici oppure le persone che hanno un approccio alla pubblica amministrazione ci vuole sempre un qualche cosa che ci minaccia io mi ricordo mi metto la cintura perché c'è una sanzione se questa sanzione non è effettiva io la cintura non me la metto quindi dobbiamo decidere se lottare la corruzione che ormai è diventato un sistema oppure non lottarla il problema è semplicemente questo l'esempio che fa la dottoressa Camassa e dice perché i sindaci nei 90 giorni non provvedono alla demolizione perché la demolizione l'abuso edilizio non è un'eccezione ma è diventata anche lì un sistema è diventata la regola non c'è una ordinanza da eseguire non c'è un immobile da demolire ce ne sono tantissimi immobili da demolire e quindi si creano quei comitati quei movimenti politici perché lo deve demolire il politico perché lo deve demolire il sindaco il singolo funzionario e non si deve fare demolire un organo dello Stato centrale dello Stato come la prefettura altrimenti questa mentalità di derresponsabilizzazione ma perché ma perché il sindaco non è che uno che diventa sindaco e come dire glielo ha prescritto il medico ci sono onori e doneri allora se io il problema infatti la proposta qual è diamo le demolizioni ai prefetti l'hanno detto anche i miei colleghi io sono profondamente contraria perché l'amministrazione attiva si deve assumere le responsabilità ci dobbiamo abituare a dire il sindaco che non demolisce e allora è colpa sua dunque non sarà rieletto se no non avremo mai questo bilanciamento tra responsabilità e carica elettiva carica elettiva e responsabilità che è fondamentale in un sistema democratico ma quale è diventato no è diventato sistema ma ce l'abbiamo fatto diventare continuiamo a farlo diventare anche questa cosa che si dice in Sicilia le case abusive sono tutte le prime case poveretti non c'erano ma sono buffonate signori miei buffonate io ho fatto i processi di abusivismo edilizio sono San Vitolo Capo Favignana Triscina ma di che io attrapano i processi per abusivismo edilizio forse qualche cosiddetta pinnata che insomma voglio dire la possiamo tollerare ma dico l'abusivismo edilizio quello della palazzina interamente costruita io lo a Trapani quando lavoravo a Trapani era San Vitolo Capo a Favignana a Favignana dove erano tutte tutte le seconde case certo poi gli italiani sono bravi ci mettevano la residenza però quello che voglio dire ora al di là di queste di fatterelli chiudiamola qua e chiudiamo no la responsabilità è del cittadino sì ma è anche del fatto che il funzionario per essere spostato ci deve essere la sentenza del giudice cioè lo vedi che siamo proprio abbiamo e che tu dici ah prima ci vuole la comunità ma perché quel funzionario che lavora male che è stato un pessimo funzionario secondo voi lì alla regione al comune alla prefettura alla provincia dove lavorava non lo sapevano tutti c'è bisogno di fare arrivare l'autorità giudiziaria che giustamente deve accertare veramente come sono andate le cose questo sempre dire ecco deve esserci la sentenza i politici ci deve sono stati è stato assolto a posto a posto poi leggi le sentenze di assoluzione e dici Maria io però a casa mia non lo volevo questo può essere stato assolto ma io a casa mia a casa mia figuriamoci nella pubblica amministrazione che deve garantire quindi è una responsabilità che va adeguatamente suddivisa ma la finiamola col cittadino che non può fare cittadino intanto può eleggere o non eleggere il cittadino può fare questa scelta fondamentale e poi il cittadino dovrebbe aprirsi gli occhi che questo mi fa impressione alle ricadute della corruzione che sono tutte suddivisa non è che perché io non pago la tangente i dati sono enormi ma è la mancanza di concorso come che non si capisce che se 25 milioni di euro vengono destinati a un imprenditore privilegiato verranno sottratti a un settore più importante o a un settore che ne aveva bisogno oppure per esempio quell'imprenditore opera in una situazione di monopolio dei nostri servizi faranno pena perché lui si può permettere di interromperli di cambiarli di fare tutto quello che vuole com'è che è questo cittadino quindi dobbiamo formarla questa cittadinanza e non c'è niente da fare io ho visto quest'articolo di Viganò professore tutti i discorsi il diritto la norma il codice antimafia e lui come finisce però il problema dobbiamo formare le coscienze civili allora non ce ne sono soluzioni diverse dobbiamo operare sulle scuole ma non con l'antimafia di facciata non con quella che vanno si schierano tutti lì fanno discorsi i ragazzi certe volte ci guardano quando andiamo nelle scuole e non capiscono niente poi c'è tutta questa sfilata io lo dico sempre la sfilata di queste storie quello è morto tutti piangono per carità non mi fraintendete rispetto totale per le vittime però dobbiamo spiegare ai ragazzi perché è il loro interesse per il loro futuro combattere la mafia la corruzione e glielo spieghiamo dicendo che appunto abbiamo bisogno di un'economia sana per non avere una concorrenza sana abbiamo bisogno di imprese che siano veramente tra di loro dove emerga quella migliore di qualità perché se no tuo padre sarà escluso dal mercato perché non avrà io ho fatto misure di prevenzione dove ho trovato imprenditori vicini al potere politico vicini alla mafia che avevano fidi 500 mila euro per darli a me 500 mila euro tre case mi devono ammesso che io le abbia mi devono ipotecare invece 500 mila euro ma perché per un progetto che neanche si sapeva se lo avrebbero realizzato e questo è mercato questo non è mercato questo dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi l'interesse che hanno per lottare questi fenomeni che è un interesse dovuto al fatto che se ne vanno tutti ma non è che se ne vanno per caso perché non c'è mercato quindi non c'è il lavoro pulito non c'è il lavoro che non sia nero non c'è il lavoro che non... questo io dico che questo è il lavoro che si deve fare come dice Massimo tutto il penale non servirà mai a risolvere il problema e questo è chiaro Gianfranco chiudiamo con un tuo un tuo intervento ci hanno lasciato troppo spazio no ma io solamente non è contento di che cosa preferiva forse grazie a tutti no io mi scuso sarei dovuto introdurre tutto il discorso anche se brevemente però ci tenevo a venire per incontrare i relatori di questo convegno devo dire in particolare con Massimo Russo che è un po' che non ci vediamo e con cui abbiamo lavorato per tantissimi anni a stretto contatto di gomito quindi lo rivedo ciao Massimo con la presidente Camassi ci vediamo ogni giorno con gli altri si può dire con Walter siamo colleghi sì è un fatto culturale dobbiamo lavorare lì sicuramente dobbiamo lavorare con i giovani dobbiamo lavorare con la scuola Massimo poco fa diceva in alto adice c'è una sensibilità diversa ma dobbiamo cercare di portarla anche qui da noi non più lontano di una settimana fa credo che lo stesso Papa Francesco abbia detto alla Commissione Antimafia ci sono dei modi per cercare di risolvere il problema sì da un lato c'è quell'aspetto della corruzione che è lo strumento attraverso il quale ormai abbiamo capito la mafia e riesce a entrare nei glangi importanti diciamo della pubblica amministrazione della società però c'è soprattutto questo questo aspetto culturale su cui noi ci dobbiamo impegnare voglio dire una cosa particolare perché da un anno a questa parte anzi devo dire in quest'anno l'avvocatura che io in questo momento qui rappresento ha fatto una scelta culturale e particolare come soggetto che può nella società dare un impulso fondamentale perché si pone come soggetto politico importante però soggetto politico in senso lato come soggetto che può influire sulle scelte della società dando determinati indirizzi proprio quest'anno all'apertura dell'anno giudiziario dell'avvocatura il presidente del consiglio nazionale mascherino ha detto noi siamo baluardo a difesa dei diritti dei cittadini noi spesso siamo stimolo per il riconoscimento pieno dei diritti grazie ai nostri stimoli spesso magistrati illuminati accolgono istanze e fanno sì che la società possa progredire quindi l'avvocatura si pone devo dire come soggetto che può dare insieme ai magistrati insieme ai giornalisti ma insieme a tutti stimoli importanti perché ci sia un cambiamento perché questo noi lo aspettiamo dagli altri questo cambiamento culturale poco fa ho sentito dire anche a Walter il cittadino ma il cittadino in quanto tale ha le sue responsabilità non è che il singolo cittadino è un soggetto che da solo non può fare niente se ha da denunciare qualcosa se ha come diciamo noi da metterci la faccia che lo faccia pure ognuno deve assumersi responsabilità e rischi è ovvio che le istituzioni hanno responsabilità più grande che lo Stato lo deve proteggere ma quello che dice Walter da un lato è giusto e però voglio dire l'osservazione fatta dalla Presidente Camassa ci sta tutto ma questo non significa che noi ci dobbiamo derresponsabilizzare quindi l'ora è tarda so che siete qua da oltre due ore due ore e mezzo è un dibattito che ovviamente continuerà e però e però l'importante ma questo forse è più importante però ognuno di noi ha una sua responsabilità e se la deve assumere le istituzioni e i cittadini grazie io volevo ringraziare nuovamente per chi mi ha invitato chi ci ha invitato ringraziare chi ha parlato dico questa è una dell'occasione in cui i grandi giornalisti si perdono perché questa sera abbiamo si sono toccati con le mani e abbiamo messo in posizione il cuore nel parlare anche animatamente di certi problemi mi permetto solo di chiusare per concludere sui riferimenti che la dottoressa Camassa faceva quando si fanno questi incontri a scuola e tutto io vengo da un incontro che abbiamo fatto in coincidenza del 29esimo anniversario di Littor Rostagno ho trovato Alessandra tantissimi ragazzi davvero interessati ho solo detto loro di prendere quella sentenza di 3.000 pagine e non leggerla loro per primi ma leggerla i genitori perché leggendo le sentenze abbiamo e dovremmo assumere ancora di più la responsabilità perché se è stato ucciso a Rostagno se sono stati corrotti se la mafia è riuscita a corrompere ammazzate il vallo o politici per costruire il parco eolico le sentenze ci dicono le responsabilità sono anche nostre di non aver parlato di aver fatto finta di non vedere nulla di essersi girate dall'altra parte dicendo tanto c'è bolla fine il giudice il magistrato il pubblico ministero il poliziotto che arresta non funziona così e in certe sentenze come quella del delitto Rostagno queste storie vengono lettere quindi non parliamo più con gli studenti ne parliamo con i genitori stasera abbiamo parlato un po' scusate dopo l'unico grazie a tutti grazie a tutti